Ciao a tutti amici, eccomi qui di nuovo con un nuovo videoblog. Dopo qualche giorno di pausa torno di nuovo attivo e faccio questo video per descrivervi, raccontarvi di un simbolo che mi è stato dato dagli arturiani proprio durante il primo contatto. Un contatto che io ho raccontato altre volte durante le interviste, anche durante le conferenze. Durante uno stato di trance che si è prodotto spontaneamente, nel quale io ho visto un'altra dimensione, simultaneamente alla nostra, è uno stato che ha durato per più di un'ora. Proprio quello fu il primo contatto e durante questo contatto loro si sono manifestati attraverso questa visione, questo simbolo, che ha un significato ben preciso. Non descrivo il simbolo, questo simbolo non l'ho raccontato subito perché l'ho tenuto privato per un certo periodo, poi a un certo punto ho deciso di condividerlo perché penso che tutto vada condiviso e quindi la sua descrizione e la sua spiegazione possa essere di aiuto nel comprendere quello che è il nostro viaggio verso noi stessi. Infatti descrivo questo simbolo non tanto per il simbolo in sé, perché i simboli alla fine sono soltanto simboli. Questo è il simbolo che rappresenta la coscienza unita arturiana dalla quale io provengo, ed è il simbolo della mia famiglia. Ma, come dicevo, più del simbolo, quello che conta è il suo significato. Infatti il suo significato, che è profondissimo, in qualche modo ci dà una direzione verso quella che è la nostra ricerca, del nostro vero sé, ed è proprio la strada verso l'integrità. Il significato di questo simbolo è l'unione di tre elementi che significano integrità, queste tre qualità che noi dobbiamo sviluppare per raggiungere l'integrità. Quindi è un simbolo di guarigione, è un simbolo di realizzazione di noi stessi, del nostro sé. Il simbolo lo metto qua, qualcuno lo conosce già, l'ho già pubblicato sia sul sito che su Facebook, e questo triangolo con la punta in giù e queste spirali, io l'ho visto luminosissimo, e questo simbolo significa perfetto equilibrio di amore, conoscenza e saggezza. Queste sono le tre qualità, le tre caratteristiche che noi dobbiamo integrare. La conoscenza, cioè la conoscenza di noi stessi, la conoscenza delle pratiche spirituali, anche le informazioni che noi possiamo avere, devono essere bilanciate dalla saggezza, perché noi possiamo essere pieni di informazioni, pieni di conoscenza spirituale, ma la conoscenza spirituale da sola fa ben poco. Può anzi renderci anche molto arroganti, può anche allontanarci dal percorso verso noi stessi, se non è bilanciata dalla nostra saggezza. La saggezza è la capacità di discernimento della giustazione, quindi bilanciare saggezza e conoscenza apre la strada verso l'equilibrio, che poi alla fine è la meta di ogni nostro sforzo spirituale. Grazie all'equilibrio noi possiamo dissolvere e trasformare i turbini delle emozioni dense in armonia. L'armonia alla fine è la nostra essenza, è la nostra natura, più che uno sbilanciamento duale, perché noi possiamo trovare felicità o disperazione e sofferenza, quindi sono emozioni sbilanciate in due direzioni diverse, ma invece dobbiamo trascendere il duale e tornare a uno stato di pace, di armonia, cioè l'essenza, la nostra vera essenza, quindi dissolvere i turbini delle emozioni. Questo lo facciamo attraverso il bilanciamento della conoscenza spirituale, quindi di come farlo e anche di noi stessi, e la saggezza, quindi come, quando, mettere in pratica e sapersi gestire, saper gestire noi stessi. La saggezza, quindi, ripeto, apre la strada verso l'equilibrio e l'equilibrio ci permette di trasformare le emozioni dense, i pesi, i fardelli, tutto quello che va trasformato in armonia. La parola emozione significa, proviene dal latino emovere, che significa proprio agitare, quindi noi dobbiamo trasformare l'agitazione in armonia. Così, in questo modo, conoscenza e saggezza, quindi equilibrio, divengono le basi per l'elemento più importante, che diventa l'amore, il puro amore, cioè la nostra capacità di comprendere e di sentire la connessione. Amore è quel filo che ci collega a tutti nell'unità, e quella forza immensa, enorme, che fa di noi uno, ma lo possiamo comprendere soltanto quando abbiamo raggiunto l'equilibrio, quando abbiamo raggiunto l'integrità, e l'integrità, appunto, è il risultato della conoscenza e della saggezza e del lavoro su noi stessi per raggiungere armonia. Gli arturiani dicono sempre che amore è assoluto equilibrio, e quindi questo è proprio la loro bandiera, perfetto equilibrio di amore, conoscenza e saggezza. Per questo motivo il loro simbolo ha questo significato. Detto questo, spero che questo post, questo mio video, e questa spiegazione, faccia riflettere, possa far riflettere sul fatto che non basta la conoscenza, ma bisogna integrare la saggezza, bisogna sviluppare una saggezza interiore, e quindi equilibrio, e quindi armonia, per arrivare all'amore e unire queste tre qualità insieme. Detto questo, io vi ringrazio per le visualizzazioni, vi ringrazio per le condivisioni, vi ringrazio per tutti i commenti, mi piace, eccetera, e vi ringrazio perché siete qui su questo pianeta a lavorare su voi stessi insieme a me e a fare tutti insieme un lavoro meraviglioso. Detto questo, un bacio e alla prossima. Ciao a tutti.